Da venerdì 6 agosto scatta l'obbligo del Green Pass per consumare nei locali pubblici al chiuso e per diversi luoghi di aggregazione. Vediamo nel dettaglio quando dovremo esibire il documento cartaceo o sul nostro smartphone. Servirà per il consumo al tavolo, al chiuso, in bar e ristoranti. Non sarà necessario per il consumo ai tavoli all'aperto e al bancone, e neppure per usufruire dei servizi igienici, per ritirare prodotti da asporto e pagare con POS nel caso in cui non sia possibile farlo all'esterno. Non sono obbligati ad avere il Green Pass, gli Under-12 e i soggetti esenti sulla base di un apposito certificato medico. I titolari degli esercizi o loro delegati sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass attraverso l'apposita app che legge il QR code del cliente. Green Pass da esibire per l'ingresso a spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso. Obbligatorio anche per sagre e fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento. E ancora centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione. Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino, ma anche concorsi pubblici chiudono la lista. Ricordiamo che il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid-19 sulla base dei dati trasmessi dalle regioni relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione da Covid-19.